Ciao ragazzi! Hi guys, welcome back for a new day of workout live with me. Hope you're doing great. Ragazzi, spero siete bene. Ci prepariamo per una nuova giornata di workout. Scusate, abbasso il volume. Eccomi qui di nuovo. Ok, ci mettiamo subito seduti. Let's just sit again like we do every day in a fright. position, una posizione ranetta, farfallina, per sentire come stiamo oggi. Just to feel how are we doing today, ok? I tend to just find this position before anything else. Di solito trovo questa posizione prima di qualsiasi altra cosa, per capire come sto oggi. e muovo un po' in base a quello che ti serve. And just let's move around in this position, depending on what you need, you do, whatever you feel is right for you. And just let's move around. And just let's move around more and more. And when you're ready just go on the elbows, quando sei pronto vai su i gomiti e ti rilassi un attimo qui. And just let's stretch carefully. stretciamo e adesso cerchiamo di stretciare una coscia e poi l'altra. let's stretch one quad and then the other. You can pop some bones. and then let's do and the down and the or, like we did it yesterday. come abbiamo fatto ieri facciamo dei passei on the down and the or, gentilmente, dolcemente per scaldare il passei, le anche. like we did yesterday, we do a little bit of this passes, turn in turn up, just to warm up our hips, ok? Very gently. All right. Now let's switch legs. Cambiamo la gamba. E stricciamo la gamba. E stricciamo la gamba. E stricciamo la gamba. And let's switch legs. And let's do passe turn in turn up. Ok. Very good. All right. And now, like we did yesterday, we'll sit on our knees. Ci sediamo sulle nostre ginocchia. Let's activate a little bit our toes. attiviamo i nostri piedi, le nostre dita. Stand, 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 stand. Ok? And when you feel ready, you put pressure on your arm and just stand on your toes. When you feel ready, you put pressure on your toes. So we stretch our toes. I've had many questions about how the leg is improved. This is a technique. And come. So this is a technique to improve our arches. Turn time. Ok. Very good. All right. Now, let's go passe turn in. Just stay here. Stretch. Stretch. Stretch a tutto. pancia dentro. Lunga la schiena. E quando sei pronto, 90 gradi. Prima 90 gradi. And when you're ready, just take your foot 90 degrees. Ok? And stay here. Relax. Respira. Breathe. And when you feel ready, just pull it a little bit more toward yourself. Quando ti senti pronto, spingi. Tira un po' il piede verso di te. Vai ad altri 90 gradi se riesci. Stendi da dietro il ginocchio. And you can bounce here. E poi un po' ondeggiare. Gently. Molto dolcemente ancora, ragazzi. Stiamo... Ci stiamo riscaldando. Ok. And relax. Let's take the other leg. Andiamo all'altra gamba. Ginocchio sullo sterno. High. Knee. And now just 90 degrees. Adesso solo 90 gradi. Fianco giù. Hip down. And just keep it 90 degrees. And stretch from the back. Stretch all'adietro. Ok? And when you feel ready, quando non ti senti pronto, puoi iniziare a tirare un po' il piede verso di te. And when you're ready, just grab your heel and pull it towards you. Ok. Now to the side you're going to hug di lato. abbracciamo la nostra coscia e il ginocchio da dietro, portiamo la gamba di lato, we bring it to the side, ok, and we try to stretch and bend, and stretch and bend, and stretch and bend, ok, senti un bellissimo stretching laterale anche, ok, let's do the other leg, facciamo and stretch, and, and stretch, and, very good guys, molto bene, ed ecco che siamo pronti per una bella sbarra a terra, and now we are ready for a nice floor bar, alright, we are going to start today, like this, parallel, six position, paralleli, sesta posizione, and one, and one, and one, and one, turn out, and fifth, over cross, come back, and one, allora, quindi facciamo quattro volte questo che ormai conoscete, la quarta volta incrocia una gamba sopra l'altra e quasi pensiamo a over incrociare, quindi esagerare l'incrocio, ok, ruotando, e ritorno, e uno, due, tre, quattro, cinque, incrocia, sette, otto, stessa cosa con il flex, uno, due, tre, quattro, cinque, incrocia, sette, otto, uno, due, tre, quattro, cinque, alright, quindi due volte con il piede stesso, quindi destra avanti, sinistra avanti, e con il flex, so twice, once with the pointed feet, with the right in front, and then left in front, and then with the flex feet, alright, just thinking about turning out from the hips, using our, everything we have, it's going to be awful this fifth position like that, it's really uncomfortable, but so good for us, sarà difficilissimo arrivare in quinta con il flex, ma noi ci lavoriamo lo stesso, ok, and parallel, five, six, seven, eight, and out, in, and out, in, and out, in, and out, in, and out, now rotate, and fifth, and fifth, and fifth, and fifth, hold, hold, and come back, and out, in, and out, in, and out, in, and out, in, and out, e ruota, quinta, e in, ukna, che o che coperà lestè sulla face, omanne rapp正inal, e quinta lestè, viaggi, allora, noi ci lavoriamo la prima volta, e ci bid i piedi con lestè in quinta, quindi sì, così, 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 grazie alla parte, e relevanta, facciamo quello che facciamo fare, tutto Folks, come facciamo queste circol tá lestero, la fare没有 tempo, e tiudono le in one in and one in and one fifth with the left and turn out and turn out turn out turn out and relax that's super hard guys don't judge my fifth position flex non giudicate la mia queen thumb flex difficilissimo same exactly from the back stessa cosa da dietro identico ok 5 6 7 8 and out in and out in out and out and out and fifth and hold and come back and out in and out in and out in and rotate and rotate and fifth and hold come back with the flex and out con i flex adduttori e glutei e on incrocia 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 infiamme non so voi ok very good all right now we're going to the plies let's facciamo plie e faremo plie in prima in after the last round clean first we go and one and two and one and down ok so first position turn out pointed feet now just relax adesso rilassati riprendi la posizione e torna giù stessa cosa quando staremo in seconda ok just can relax puoi rilassarti in avanti e poi riprendi la posizione con le braccia in prima all right let's go plie stern out glutes in and five six seven eight and one two three four and five six seven eight one two three four with the flex heels push down ground plie due tre quattro cinque sei sette otto con il flex al ritorno tre quattro spingi con i talloni sette otto port del bra two relax relax five six seven eight and again two relax 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 first and down second back on two three four five six seven stretch and one two three four push down with the heels and point and one round plie three three four five six sette otto e uno due tre quattro spingi dai talloni sette and port del bra relax and hold and hold down and again relax and hold and hold first down ok very good let's do everything from the back same thing from the back except for the quarter bra stessa cosa identica da dietro tranne il quarter bra che sarà sarà così e un due tre quattro cinque sette sette otto come abbiamo fatto ieri ci sono state di dire yesterday second position third position shoulders down second and down twice and then alla seconda and then to the side alright plie turn out stretch your knees pointed feet and five six seven eight one two three four and five six seven eight and one two three four push down move the heel seven e grand plie due tre quattro cinque sei sette otto e uno due tre quattro fletti fletti and eight and second arms up and second and down again to the side and up and to the side and down open second uno due tre quattro cinque sei sette otto uno due tre quattro fletti sette otto grand plie due tre quattro cinque sette sette otto l'ultima volta due tre quattro with the flex push down seven eight pour the brow and up and side and down again to the side shoulders down and side and down oh very good molto bene just take a second to stretch prenditi un secondo per stracciarti fai quello che ti serve do whatever you feel it's right for you very good molto bene ragazzi adesso andiamo avanti e faremo tendu and tendu and tendu coup de pied and hold and to the side down to the side to the side enveloppe coup de pied and and un tendu secondo tendu tendu enveloppe coup de pied e ritorno uno 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 enveloppe coup de pied ritorno ok just that just run for now same thing from the back very easy ok the only thing la cosa più difficile adesso è questo momento aprire aprire entrambe le gambe and orso let's work both legs turning out went from the tendu to the coup de pied that's the hardest part ok don't work just with this leg work even more with this leg ok first position pointed toes 5 6 7 8 and 1 and down and 1 down and 1 enveloppe hold and down to the side hip down and 1 enveloppe hold and left sinistra giù sinistra sinistra entrambe le gambe ruota e giù di lato giù di lato giù di lato ruota 7 giù ok very good same thing from the back same thing stessa cosa identica da dietro ragazzi dietro e di lato 45 degrees 45 gradi 5 6 7 8 and out down and out down and out coude pied a little pain hold and down to the side keep down and side down side resist 7 8 and left down and left down and left envelope in 7 8 and 1 down and 1 down 1 envelope turn out and close all right very good ok now we're going to do jetez la glie yesterday out hold down out hold down and fast and fast and fast and hold fuori tieni dentro jete 45 dentro es indentro dentro dentro rilassa ok two dynamics that are different due dinamiche diverse quindi uno tieni giù e poi gli altri sono fuori dentro fuori dentro ok veloci due lenti tenuti e tre veloci it's black he's going do you guys see me i hope you guys see me do you guys see me do you write me that yes they see me ok that's great because i don't see myself anymore alright thank you let's go jetes five six seven eight jeté hold down jeté hold down and 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 hold jeté hold down jeté hold down and fast and fast and fast and now left giù sinistra tieni giù e veloce e veloce e veloce niente e giù di lati tieni giù e veloce e veloce e veloce niente ok now we go from the back same exact thing stessa cosa da dietro cinque sei sette otto jeté tieni giù jeté tieni giù and fast and fast and fast and hold di lato tieni giù di lato hold up and fast and fast and fast left one hold up one hold up and fast and fast and fast and hold side hold up side hold up and fast and fast and fast relax very good and now we are going to go for the news right away today so today we are going to do first position plié attitude and stretch and down same thing to the side attitude and stretch and now grand plié attitude 90 grand plié attitude 90 down quindi fondue prima 45 stessa cosa con grand plié attitude 90 ok vediamo un po' com'è 90 gradi oggi let's see how our 90 degrees fondue these are these are today all right 5 6 7 8 and one plié attitude and hold and stretch together and down and to the side and attitude and hold stretch together and 90 grand plié attitude and stretch together down down grand plié attitude and stretch together down and left plié attitude e stretch e giù plié attitude di lato insieme coordinazione grand plié attitude e 90 e giù ultima volta attitude insieme e giù very good so coordination is hard together insieme la coordinazione è difficile ma ci aiuta a capire il funghi poi su stessa cosa da dietro però da dietro faremo solo 45 con la gamba destra e è la seconda con la gamba destra e poi con la gamba sinistra so from the back we're just going to do once 45 degrees ok back and side back 45 degrees alright 5 6 7 8 plié attitude and stretch and down plié attitude and stretch let's do again same legs stessa cosa di nuovo la stessa gamba attitude ripetiamo e giù 45 attitude together and left 4 times and 1 attitude stretch insieme e giù di lato 1 attitude stretch insieme e giù di nuovo e dietro incrocia e giù e 1 attitude and together and down very good ok now that we're here we're going to do right away passes runs to the side allora facciamo e 1 2 3 4 run and run double round double round passe close back passe 90 questa volta under down and round double round double round passe and close ok so first time is under or single single double double second time from under down ok una volta dall'under or una volta dall'under down due singoli due doppi round ok fifth position quinta posizione arms and first shoulders down glutes in stomach five six seven eight passe two 90 and under and under double under double under passe close back chiudo dietro passe e 90 under down under down e doppio e doppio passe e avanti ok ok this knee is so noisy i ginocchi fa ancora tanto rumore però si sta riprendendo ragazzi all right let's go left five six seven eight passe and 90 under arm under or and double and double passe close back and again and one passe under down under down and double and double passe and close very good molto bene ragazzi adesso facciamo oggi ci meritiamo come ogni tanto si fa la sbarra invece di fare un adagio facciamo uno stretching alla sbarra quindi oggi invece di fare un adagio a terra facciamo stretching so guys because it's Saturday and sometimes at the bar we don't do adagio but we do stretching at the bar instead today we deserve that as well so we're going to go opposite hand hold altitude now we're going to stretch and take it and then we go opposite hand altitude and stretch and take it ok prendiamo con la gamba apposta latitude poi 90 poi bene verso di te e scendi altitude e portalo su ok semplice stretching se non riuscite a fare questo fate qualche altro tipo di stretching va bene uguale if you can't do this you do another kind of stretching it's fine but today just let's let's stretch it up 5 6 7 8 altitude and hold and hold and hold now stretch 90 degrees turn out e ruota portalo verso di te fianco giù e giù e giù e giù e giù rilassa attitude e ruota 3 4 90 gradi 7 8 aiutati con l'altra gamba tira 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 7 8 and attitude with the left rotate 90 degrees turn out turn up heel down and help yourself with the other arm stretch stretch 7 8 last time attitude 3 4 bring it to the side 90 7 8 and take it and stretch and stretch and stretch and stretch and stretch and stretch and relax so what's better cos'è meglio allora questo stretching o l'adaggio da dietro facciamo uno stretching così passiamo di tag solo una gamba ok just hold this like me fatele insieme a me una gamba state sui gomi state sui gomi di passare con una gamba cambia gamba e and 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 altissimo e altra gamba. Adesso entrambe, now both legs. Now you can open a little bit more, fai aprire un po' e appoggiati sulle mani e cerca di toccare la testa con i piedi. Try to touch the head with your feet, ok? I used to be able to do that, I can't do it anymore. Prima un tempo riuscivo a farlo, ragazzi. Ok, relax. Now we stretch to the side, we take it like that. Prendi soltanto il passe. Rilassa. E stessa cosa all'altro lato. Ok. Now, let's do a Grand Batman. Facciamo Grand Batman 90 gradi o di più. Uno. Come il Tandu. do, due. Uno. Amveloppe passe. E giù. One. Like the Tandu at the beginning. One. Amveloppe passe. And down. Let's say this. Two Grand Batman's. The third one is with Amveloppe. Due Grand Batman in terzo con Amveloppe. And down. Let's go. Ok. First position. Prima posizione. Cinque, sei, sette, otto. Un. Un. Giù. E un. Giù. E un. Amveloppe. Stop. Giù. Un. Giù. Un. Giù. Un. Amveloppe passe. Stop. Giù. Sinistra. And left. And one. Amveloppe. Hold. To the side. To the side. And one. Amveloppe. Hold. And down. No. No. We do. From the back 45 degrees or a little bit more. Da dietro facciamo 45 gradi o un po' di più. Cercando di rimanere con le coppe nei fianchi giù. Let's try to stay with the hips down. And then we go to the side. Ok? In fifth. And then back. With the left. And side with the left. Ok? Five. Six. Seven. Eight. And one. And one. And one. Amveloppe. Turn out. And fifth. To the side. And one. And one. Amveloppe. And down. And left. And one. And one. Amveloppe. Seven. Eight. Okay. Now today we're going to do another exercise with Clara. Quadra. by other arms. Body of other arms. But really in the back. Harm. Armie. Temple back up there. Quinta posizione. E praticamente alza soltanto. So you just move the top leg in fifth. 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 Okay? Like that. And then we switch. Ok? Just one top leg in 5th position. 8 and 8. Staying like that. Alright? So right foot in front. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Shoulders down. 6, 7, 8. Switch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow. Ok. Very good. Aha. Let's relax. Let's stretch it. And now we're going to do a similar thing from the back, but not really. Da dietro facciamo soltanto. Gamba alla seconda. Crocia, crocia. Incrocia, incrocia. Incrocia, incrocia. 8 times. Plus 8 times. So 60. Da dietro facciamo soltanto. Gamba alla seconda. Quinta, quinta. Quinta, quinta. Quinta, quinta. Ok? Però facciamo 8 volte con i piedi puntati. 8 volte con i piedi in flex. 8 times. With the pointed feet. 8 times the flex. Alright? Let's start with the pointed feet. Iniziamo con i piedi puntati. 5, 6, 7, 8. Beat, beat, side. 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 And beat. With the flex. Beat, beat, side. Crocia, incrocia. Incrocia. Really cross. And cross. And cross. And cross. And cross. Uh-huh. Uh-huh. Very good. Ok. Now we are going to do... Just take the socks off. Tollege i calzini. Finiamo con questo ultimo esercizio. Heels together. Calori insieme. Spingono uno contro l'altro. Set the glutei. And now. You can put the arms wherever you want. Metti le braccia dove vuoi. Un lato. E l'altro lato. And touch it. Ok, you can make it shorter. Fallo più corto, così è più comodo. Uno. E uno. E uno. E uno. E uno. Ok. It's a little bit uncomfortable and hard. E' molto difficile ma buonissimo per i glutei. Aha. Vabbiamo a due... Just a couple times more. Lo rifaccio solo un altro paio di volte. E poi finiamo qui. And down. And down. And down. And down. Uh. All right. Aha. Very good. Ok, guys. Very good. Let's go. Just take a split position. Troviamo soltanto una spaccata. Troviamo soltanto una spaccata. e poi ci sono molto molto. Alcora do a little bit more of a stretching. Ok. Just to keep going. Thank you so much. See you tomorrow. Same place, same time. Ci vediamo nelle mie state si abbosano sul spalla.